Il TEP è galantuomo, la mia posizione è stata, ero contrario, è stata sempre la stessa, ero contrario a quel protocollo di intesa, ma soprattutto ero contrario perché sapevo che dopo tre anni cosa si sarebbe verificato, oggi dopo tre anni avevo ragione, si sarebbe verificato solo una grave crisi economica, sociale e occupazionale ed è quello che si è verificato. Noi in quella fase cosa dicevamo? Dicevamo di mantenere intanto la linea 1 in attesa che partisse la riconversione, ma anche la riconversione come è stato detto anche con molta onestante elettuale da parte di un consigliere del PD, anche con la riconversione Gela perderà circa mille posti di lavoro tra diretto e indotto. Questo che significa? Significa che oggi dire dopo tre anni abbiamo sbagliato tutto è molto semplice o ha sbagliato solo una persona, non è così, ha sbagliato o non ha sbagliato la persona che allora guidava il comune di Gela, Angelo Fasolo, ma ha sbagliato il PD perché non ci dobbiamo dimenticare che il PD guidava Gela, la regione a livello regionale con il presidente della regione Crocetta e anche con l'allora primo ministro Renzi. Renzi era venuto qua il 14 agosto dicendo che Gela non avrebbe perso nessun posto di lavoro, quindi è facile scaricare la responsabilità su una. Ma oggi dopo tre anni noi avevamo ragione quando dicevamo di mantenere la linea 1 in attesa che si costruisse un progetto di nuovo sviluppo economico nella nostra città. Noi l'idea l'avevamo, lo volevamo che fosse messo in quel protocollo tutti gli investimenti da fare sul nostro territorio. Oggi c'è un accordo di programma che l'amministrazione comunale dice che ha messo in campo ma non ci sono risorse. Ecco perché ho presentato una interrogazione in cui chiedo al governo regionale di spostare 50 milioni di euro che non sono state utilizzate per l'area di crisi complessa di Termini Meresi per l'area di crisi complessa di Gela. In più un disegno di legge per rendere appetibile il nostro territorio. Un disegno di legge che prevede praticamente che le aree dell'asi di Gela invece di costare 20 euro a metro quadrato che è un prezzo insostenibile da parte dell'azienda costi un prezzo risorio tipo 1 euro a metro quadrato in modo che l'azienda possa venire nel nostro territorio. Però anche il PD sostiene che quel protocollo d'intesa si può rinegoziare. Ci sono le condizioni? Ma guardate io resto meravigliato. Il PD è stato 5 anni al governo. Adesso il governo regionale mancano gli ultimi 3 mesi e si andrà a votare. Il governo nazionale che ha guida il PD da 5 anni fra 6 mesi non se ne va. Significa che sta dando il compito a che vincerà dopo. Io ho sottoscritto nel momento in cui se ci sarò questo compito lo porto avanti. Ma è chiaro che c'è stato il fallimento da parte del PD. Forse in tutta questa vicenda hanno avuto più onestà intellettuale. I grillini che hanno detto che erano sempre contro l'industria pesante a me non era quella la loro posizione. Loro invece che hanno fatto prima a favore poi contro. A realtà qual è? A realtà che tutti questi scontri sono scontri fra personalità. Oggi l'avversario da battere all'interno del PD è tizio e si fa l'attacco a tizio. Domani è caio e si fa l'attacco a caio. Ma penso che la città chiara ha capito benissimo che la responsabilità di tutta la classe dirigente che ha portato avanti quel protocollo e se ne devono assumere responsabilità. A me fa piacere che oggi si stanno assumendo la propria responsabilità ma nessuno pensi di scaricarla solo su una persona. Io penso che la responsabilità sia tutta la classe dirigente del PD.